Una strada lunga venti secoli, è questa la frase che dà il titolo alla targa posizionata in via San Vincenzo nella piazzetta d'incrocio con via 20 Settembre, che racconta la lunghissima storia della strada, uno dei cuori pulsanti del commercio genovese. Buon viatico affinché il turismo arrivi anche in queste zone della città. Bisogna conoscere la nostra città in tutte le sue sfaccettature, è densissima di storia, è una narrazione reale, non è posticcia, non è artificiale, è una narrazione che deve essere portata a tutti, ai residenti che con orgoglio potranno raccontarlo, ai visitatori che sempre di più dovranno affollare la nostra città. Questo è un modo per ricordare che nel nostro passato ci sono cose che devono servirci proprio per seguire nel migliore dei modi quello che è il futuro e ovviamente stando molto attenti a valorizzare l'eccellenza del territorio, di tutta questa città policentrica, meravigliosa, con tantissimi centri e tantissimi centri storici. Il progetto era stato avviato da Paolo Odone, storico presidente di Ascom Conf Commercio a Genova, ma anche dall'aeroporto Cristoforo Colombo, scomparso ad aprile 2023. Tante idee, spunti, stimoli devo dire Paolo ci ha consegnato lungo gli anni, proprio per l'amore, per la passione che ha mantenuto sempre verso Genova. Oltre ad essere una figura storica per il commercio genovese, è stato anche colui che di fatto gli ha inventati i centri integrati via e che da appassionato di storia e di archeologia avrebbe sicuramente gradito anche nel particolare questo progetto, che esalta il valore storico architettonico della nostra città, di aspetti peculiari, esalta anche la capacità di fare sistema del sistema produttivo, del commercio e dell'artigianato.